Ok ragazzi eccoci con un nuovo video, una nuova video recensione come avrete visto dal titolo parliamo di Festool o Festool che dir si voglia, torniamo quindi sul settore professionale andiamo a vedere questo avvitatore come avete visto dal titolo fatemi dire due parole su quella che è la valigetta che è decisamente fuori dal convenzionale come del resto l'avvitatore che vedremo tra poco infatti possiede la maniglia qua sulla parte superiore perché grazie a questi agganci qui è possibile andare a installare e impilare modularmente le valigette così da poter installare o comunque applicare sotto ad esempio un porta minuterie e quindi con una sola maniglia portiamo due valigette evitando quindi di avere tutte e due le mani impegnate molto comodo ad esempio quando dobbiamo fare le scale o comunque dobbiamo portare in giro i nostri attrezzi ma bando alle ciance andiamo ad aprire questa valigetta e vediamo subito il contenuto come detto è un avvitatore fuori dal convenzionale infatti come potete vedere cambia decisamente la forma dal solito avvitatore questo perché? perché è molto comodo riuscire ad impugnare l'avvitatore in questo modo qua quindi facendo così si evita di andare a fare leva sulla parte posteriore tendenzialmente gli avvitatori sono fatti a mo' di pistola quindi quando noi andiamo a premere facciamo forza su questa parte qua sull'impugnatura che inevitabilmente ci rischia di far inserire o forare la vite in modo storto quindi non perpendicolare al pezzo di legno così facendo invece come vedete anche cava questa parte qua riusciamo a impugnare l'avvitatore in questo modo qua come se fosse un prolungamento del dito in questo modo qui quindi quando noi andiamo a forare o avvitare siamo decisamente più perpendicolari al pezzo sposto leggermente l'inquadratura così da mostrarvi quello che volevo dire abbiamo qui sopra il selettore 1 e 2 delle velocità come giustamente abbiamo sul 99% degli avvitatori come vedete è decisamente leggero lo tengo con un solo dito abbiamo ancora le varie frizioni che vanno dall'1 al 12 e giustamente quella per forare sotto abbiamo lo slot per la batteria una batteria da 10.8 volt da 2.6 ampere anche se esistono delle altre batterie che sfruttano questa parte cava all'interno del carter dell'avvitatore quindi abbiamo una batteria con un prolungamento qua sulla parte superiore che giustamente permette di aumentare la corrente della batteria quindi la durata in ore in minuti che sia andiamo a vedere un'altra cosa molto importante di questo avvitatore che come vedete sembra gli manchi il mandrino ma in realtà è perché questo avvitatore permette con questo movimento qua quindi semplicemente tirando indietro la ghiera di inserire il mandrino o eventualmente un altro porta inserti questo perché sapete meglio di me che dobbiamo andare a preforare il pezzo prima di avvitare quindi sapete meglio di me ripeto che è necessario prima avere il mandrino autoserrante dove andiamo a posizionare la nostra punta per forare il pezzo e poi una volta forato dobbiamo andare ad avvitare quindi dobbiamo forare poi svitare togliere invece no con questo attrezzo basta fare così togliamo il mandrino e andiamo a avvitare o meglio inserire a baionetta come se fosse una punta SDS il nostro mandrino porta inserti e abbiamo direttamente la possibilità di avvitare se ci dovesse servire ancora spazio possiamo togliere questa parte qua e inserire l'inserto direttamente sul trapano avvitatore così da avere decisamente più spazio per lavorare all'interno che su di una cassettiera o di un mobile infatti è tendenzialmente studiato per quelli che sono i mobili aereo o comunque i falegnami questo attrezzo ancora qua sul frontale troviamo il led verde e giustamente rosso quando ci indica la batteria che scarica e alla pressione quando si attiva la rotazione del motore si illumina anche questo led che ci illumina la zona di lavoro che dire presumo non ci sia null'altro da dire di questo avvitatore all'interno troviamo ancora questi porta inserti molto comodi perché hanno l'attacco a cintura ripeto presumo non ci sia null'altro da dirvi di questo avvitatore vi ricordo che potete iscrivervi al canale per rimanere aggiornati e soprattutto lasciate un like se il video vi è piaciuto ciao alla prossima